Grazie della linea TG Wild! Oggi come potete vedere siamo in collegamento da Prato per darvi una notizia sensazionale, una notizia veramente incredibile di una cosa che sta succedendo, ragazzi è veramente uno scoop che non vi potete neanche immaginare quello che sta succedendo... Scusa, ma tu sei Grau? In piatto spaziale TG Wild? Sì, mi conoscono, è incredibile, sto diventando famoso! E allora dopo questo momento incredibile ringraziamo la signora Anna e qui da Prato è tutto, a te la linea TG Wild! Via! È incredibile! Quando comincio a parlare partiamo, ok? Sì! Mi parti un po' dopo! Mi conoscono anche qua! Grau! Tu sei Grau? In piatto spaziale TG Wild? Sì! E vai! No, 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 no! Sbagliato! Non mi fermo neanche! Sì! Sì!